Ora la tenebra discende su Gondor e Minas Tirith viene circondata da un'orribile e malvagia fiumana. Grandi torri d'assedio si avvicinano alle mura della città, ognuna carica di orribili e feroci orchetti. L'oscuro Sire scatena Grond contro l'ingresso principale, un orrendo ariete forgiato a immagine di lupo. Se vogliono riuscire a vincere, i guerrieri di Gondor devono difendere il più a lungo possibile i livelli della città, prima di ritirarsi nel suo cuore fiammeggiante. Siete uomini di Gondor! Presidierete la vostra posizione! Qualsiasi cosa entri da quel cancello! Non ci faremo scacciare dal cortile! 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 Difendete il cortile! Non deve cadere in mano nemica! Arriva un'altra ondata! Difendiamo il cortile! Non ci faremo scacciare dal cortile! Non ci faremo! E loro li abbiamo fermati! Ora alle mura! Mentre prendiamo il controllo dei cancelli! Gli orchetti sono sulle mura! Distruggiamo le torri d'assedio! Bruciamole! Presto! Dobbiamo distruggere quelle torri d'assedio! Presto! Basta! Cosa c'è? Basta! Basta! Cosa! Basta! 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 Bruciamo quelle torri! Fermiamo gli orchetti! Presto! Dobbiamo distruggere quelle torri d'assedio! Presto! Usiamo la balista! Là! All'estremità lontana delle mura! Bruciamo quelle torri! Fermiamo gli orchetti! Li abbiamo fermati! Questo settore delle mura è sicuro! Non riusciamo a fermare gli orchetti! Sì! Ritiriamoci al secondo livello della città! Lì ci riorganizzeremo! Ritirata! Ripieghiamo al secondo livello! Ritiriamo! Ci raduneremo al secondo livello! Ritirata! Ripieghiamo al secondo livello! Informazione! Dobbiamo opporre la nostra resistenza! Il primo livello della città è perso! Dobbiamo difendere il cancello del secondo! Difendiamo questo cortile fino alla morte! Intentate! Il primo livello della città è perso! Capitazione! wellbeinge partita! Fun 6DSE Ehm! Un lo is 아 escult' Oh! Questa è un combattere! Questa è vero la area! Un'altra dinanzi al secondo cancello! Un'altra dinanzi al secondo cancello! Un'altra dinanzi al secondo cancello! Se riescono a entrare qui, siamo finiti! Non possiamo cedere! Dobbiamo fermarli qui! Difendiamo questo cortile fino alla morte! Gli archetti hanno conquistato il livello! Presto, al cancello del terzo livello! Combattiamo! Dobbiamo raggiungere il terzo livello! Siamo gli ultimi rimasti! Qui, al terzo livello, opporremo una strenua resistenza! Devo contrastare questa malvagità! Quattro! Alla prossima! Difendiamo il terzo cancello! Dobbiamo arrivare all'alba! Arrivano i Troll! Dobbiamo fermarli! Arrivano i Troll! Giungeranno i soccorsi! Attendiamo l'alba! Arrivano i Troll! Attra portate! Attra portate! Non dobbiamo cedere, dobbiamo superare la notte! Non dobbiamo superare la notte! Sono giunti dei rinforzi! Forse riusciremo a vedere l'alba! L'alba è giunta! I corni suonano! Rohan cavalca il nostro soccorso! Nell'ora più oscura però il suono del corno ha scosso la città. Un antico giuramento è stato onorato. Finalmente Rohan è giunto. Theoden ha condotto con sé tutti i cavalieri del nord ed è pronto al rischio. Gli orchetti devono abbandonare la città per fronteggiare la nuova minaccia. Ora sul campo di battaglia il destino di Gondor sarà deciso. Grazie! 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 Grazie!